La nostra proposta consiste in... Il settembre d'anno prossimo pensavamo, dai 5 ai 7 giorni, prenotare una casa su un'isola greca che è stata decisa a Simi, un'isola meravigliosa, chi vuol venire viene. Chiaro che questa proposta noi la facciamo e non permetteremo che venga travolta da noi. Se avete delle altre proposte o se no proponetele e noi vedremo di accettarle o meno. Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. 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 No dai. Grazie a tutti. 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 non piante anche dall'alto bank e poi nel caso che ti innamorassi dici vorrei tu mi credessi io non sono così così generazione di fenomeni tutti eroi generazione di fenomeni ma come mai io gioco a fare il duro ma ti giuro sono buono sai a volte piango ancora non ci crederai madonna guarda che fenomeni siamo noi ma siamo proprio dei fenomeni e tutti eroi generazione di fenomeni come noi generazione di fenomeni siete voi generazione di generazione di da 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 d